Noi ci occupiamo di cose belle normalmente, natura, animali, oasi, però io mi occupo della parte brutta dell'associazione, quindi mi occupo di cambiamento climatico e occuparsi di cambiamento climatico in realtà vuol dire occuparsi un po' di tutto, occuparsi di ambiente, di natura, degli effetti che il cambiamento climatico ha sull'ambiente e sulla natura, ma anche occuparsi di economia, occuparsi di partecipazione, occuparsi di lavoro, di tante cose, perché ormai agire sul cambiamento climatico vuol dire rivedere un po' tutto il nostro modello di vita. Ho una grande esperienza di negoziati internazionali, quindi quando sentite se svolta la conferenza sul clima eccetera, voi siete forse troppo giovani, ma insomma dal 2001 ci sono anch'io. Non sono una negoziatrice, anche se in passato mi sono intrufolata anche nei negoziati, ma in ogni caso sono una di quelle che cerca di fare in modo che i negoziatori vadano nel verso giusto e non subiscano le pressioni di chi ha interesse a continuare a usare i combustibili fossili che sono la causa dei problemi che abbiamo oggi.